Passo a questo. Ecco, allora possiamo iniziare con qualche minuto di ritardo. Benvenuti a questa iniziativa. No, si sente? Benvenuti. Benvenuti. Benvenuti a questa iniziativa dal titolo ISG, Finanza Sostenibile e Tutela degli Investitori. Poi chiariremo, per i non addetti, ma per gli addetti fosse già chiaro l'acronimo, ma chiariremo un po' i contenuti anche di questo incontro che è organizzato dal Dipartimento di Economia Marco Biaggi in collaborazione con il Circolo della Ciambella. Ha un nome curioso, ma che in realtà indica o fa riferimento a un'esperienza importante che è quella dell'economia circolare in parte, ma anche a un manuale molto dibattuto e che ha suscitato molto interesse, che riguarda proprio l'economia della Ciambella, Donuts Economics. E quindi penso che appunto i promotori di questo circolo che è in procinto di diventare anche un'associazione, e speriamo possa darvi anche qualche idea in più su quelle che sono le finalità di questo gruppo di economisti, non economisti, professionisti, che si incontra con una certa regolarità e che ha già organizzato anche iniziative lodevoli, importanti, come quella che ha riguardato il convegno, l'incontro al commento dell'enciclica di Papa Francesco, l'ho dato sì, che ha avuto, come dire, un momento significativo anche di partecipazione. Allora, io cedo la parola ad Antonio Cherchi, che è un po' il coordinatore di questo circolo, insieme a Vittorio Molinari, che sono i due pilastri che è qui presente. Sono poi i due pilastri di questa circola associazione e ci dà un po' qualche indicazione anche di come via via potrete e potremmo far parte di questa iniziativa. Grazie. Molto volentieri, grazie. Devo dire ovviamente che io sono un commercialista, quindi per dire come questo circolo in realtà è aperto a tante e diverse esperienze. Si sente quello che dico? Perfetto. Ringrazio. Ah, ok. Guarda, io preferirei... Pronto? Ok. Dicevo, ci trarrevo subito a ringraziare l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che ha accreditato questo evento nella formazione continua dei colleghi. Ecco. Ora, come ci è venuta in mente questa idea a me e a Vittorio di costituire questo circolo della ciambella? In realtà eravamo beatamente, come dirigenti di Slow Food, che non siamo stati per tanti anni, eravamo beatamente a pranzo con Carlin Petrini un giorno bra, e lui ci ha detto, ci ha suggerito, ma leggete questa Economia della ciambella di Kate Raworth, un libro che in quel momento era fresco di stampa. Ecco, quest'idea... Noi abbiamo accolto subito questo suggerimento e siamo un po' stati foldorati dal libro. Un po' ci piaceva l'idea che la Danat, quindi un cibo, potesse rappresentare qualcosa di veramente importante, perché poi la ciambella rappresenta, come dire, lo spazio in cui l'umanità e il pianeta potrebbero prosperare. E quindi già da lì abbiamo detto, ma perché non proviamo a fare qualcosa col tema ciambella? Per esempio un circolo della ciambella cercando anche di stimolare i nostri amici economisti o aziendalisti della Facoltà di Economia Marco Biagi a riflettere sui grandi temi dell'economia, riportareci al centro del dibattito, ma cercando di estendolo anche ad altre persone, ad altri contributi. Bene, che cos'è la ciambella? La ciambella è una forma che la Rewort ha un po' inventato per cercare di, appunto, delimitare, come dicevo prima, uno spazio in cui l'umanità e il pianeta possono prosperare. Quindi la ciambella è una ciambella col buco, la Donat, e quindi ha una circonferenza esterna. La circonferenza esterna rappresenta i limiti planetari che non devono essere superati se non vogliamo ovviamente perdere quell'obiettivo. I limiti planetari a cui fa riferimento sono i nuovi limiti planetari di John Rockstrom e del gruppo dei Planetary Boundaries, e invece la circonferenza interna misura, invece nel buco ci stanno le persone che non hanno sufficienti diritti, e quindi dalla povertà alla fame alle tante disuguaglianze che ci sono nel mondo e quindi il compito in questo caso è di riportare tutta l'umanità oltre quella piccola circonferenza interna, oltre il buco, riportarla dentro la ciambella. Quindi capite che, insomma, costruire la ciambella è una grande utopia, se vogliamo evitare che sia un'utopia dobbiamo davvero impegnarci e essere capaci anche di avere una visione, di avere concretezza di obiettivi e capire, sì, cercare di costruire un percorso. Ora, innanzitutto quello che ovviamente bisogna fare, secondo me, è provare a, come dire, trovare la ricetta per fare la ciambella e poi riuscire anche a farla, a farla venire col buco, farla venire bene. Ora, per questo probabilmente è utile, è utile, come dire, cercare intanto di ragionare, di usare la ciambella come se fosse una bussola in tutti i ragionamenti che facciamo. Questa è un'idea che esprime anche Gianfranco Bologna nel suo ultimo libro e in effetti la ciambella può essere utile perché tutte le volte ci possiamo chiedere, bene, adesso stiamo facendo un certo programma ma è un programma che veramente ci porterà a stare dentro la ciambella, che rispetta i limiti della circonferenza esterna e che rispetta i limiti della circonferenza interna. Ecco, per questo il tema di oggi che è il tema del environment social governance è che è un tema molto di moda, un acronimo assolutamente di moda e credo un tema che è interessante provare a a misurare con la bussola della ciambella proprio perché tutti e tre questi argomenti si prestano molto insomma, no? Quindi environment ma in realtà siccome l'ESG è qualche cosa che ovviamente si rivolge alle imprese e io sono totalmente convinto da commercialista che se noi non riusciamo a coinvolgere davvero tutto il tessuto delle imprese non solo quelle quotate ma anche il grande tessuto delle piccole e medie imprese in una in questo percorso realmente la ciambella resterà solo un'utopia e quindi io credo appunto davanti a a quelli che sono i programmi i progetti di impresa ESG li si possa valutare anche alla luce di quello che è la bussola della ciambella e quindi chiedersi se è environment ma il progetto che si porta avanti sta dentro la ciambella social ma in realtà pure riusciamo a stare a fare qualcosa che riporta un pezzo di umanità dentro oltre la circonferenza più bassa della ciambella e governance ovviamente ha a che fare con tutti le regole che servono per entrare nella ciambella e per starci poi e quindi io credo che sia molto opportuno oggi cominciare con l'OSG ma come dicevo il nostro il nostro circolo nasce per affrontare tanti altri temi insomma da quello da quello delle disuguaglianze alla crisi ambientale alla trasformazione dell'economia e della alla necessità il principio che la natura non appartiene all'uomo ma semmai è l'uomo che appartiene alla natura che ci porta anche veramente a un cambiamento di paradigma ora devo dire che come dicevo l'ESG è una sfida per le imprese ma è anche vero che quando quando nacque la tematica ESG allora si chiamava corporate and social governance quindi l'idea che le imprese non dovessero occuparsi solo di fare profitti ma anche e dell'esternalità che la loro attività generava ecco quest'idea in realtà suscitò all'epoca la sdegnata reazione di Milton Friedman il grande il grande influencer si direbbe oggi dell'economia neoliberista che invece insomma disse no c'è una sola una e una sola responsabilità sociale dell'impresa e quella insomma di avalersi delle proprie risorse per fare profitti pur rispettando ovviamente le consuetudini e le regole ovviamente in quella visione quindi non c'è possibilità d'altro che di imprese che massimizzano i profitti in realtà però è proprio quella è proprio l'economia di mercato che ci sta portando a superare uno dopo l'altro tutti i limiti del pianeta e ad accrescere le disuguaglianze quindi ci porta a una diffusa insostenibilità occorre perciò che le imprese sappiano ampliare il loro scopo oggi si dice purpose no e andare oltre i profitti oltre i profitti e andare oltre i profitti e affrontare i limiti e i fallimenti del mercato andando oltre le consuetudini e quindi dandosi anche delle nuove regole quindi c'è bisogno di nuove leggi di una regolamentazione c'è bisogno di nuove consuetudini non basta fare le cose bene date le leggi che ci sono e le consuetudini che abbiamo e non è detto che l'impresa sostenibile non possa rivelarsi un'opportunità in realtà economica cioè si possano conciliare la sostenibilità e il profitto in una visione proiettata nel tempo perché ovviamente la sostenibilità è tale se dura nel tempo di conseguenza possa svilupparsi anche un mercato finanziario SG che premi le imprese realmente SG virtuose e indirizzi piccoli consumatori come noi ad investire magari i propri soldi avendo a cuore anche la salute del pianeta e delle comunità ma è davvero così o anche questa è un'illusione o addirittura una grande io sono certo che i nostri interlocutori che diciamo che l'incontro di oggi vorrebbe essere anche un po' diciamo educativo perché su questi temi bisogna anche imparare le regole imparare lo status lo status dell'arte ma poi è vero che ci sono delle domande importanti insomma a cui bisogna anche saper rispondere sono convinto che voi ci riuscirete grazie grazie Antonio sì insomma parlare con i componenti del Circo della Sceambella insomma abbiamo visto entusiasmo visione abbiamo accettato anche una sfida che è quella di inserire un tema finanziario quindi con le competenze che sono presenti poi in questo dipartimento che sono ben rappresentate dai nostri docenti Costanza Torricelli Valeria Venturelli Ulpiana Coccolari che poi interverranno e cercheranno di approfondire alcuni degli aspetti che metteva in evidenza Antonio io parto quindi con una introduzione che fa un po' il punto su quello che si dicevi prima lo stato dell'arte a partire anche dalle definizioni quindi cercare anche dei denominatori comuni che possano essere io mi auguro comprensibili a partire dal titolo perché stiamo tenendo insieme tutela degli investitori finanza sostenibile dove la tutela degli investitori oggi capita e si inserisce anche in modo ideale nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria perché c'è un'idea che è sempre più affermata che la tutela degli investitori passa per una consapevolezza che gli investitori hanno dei rischi ovviamente anche delle opportunità che si presentano nel mercato finanziario quindi tutela degli investitori diventa un bene pubblico un bene prezioso che può essere tutelato anche e forse soprattutto con l'intervento pubblico e daremo un po' conto anche di questo aspetto l'altro termine è finanza sostenibile beh qui uno scatta è uno simolo dove uno mette insieme finanza che conosciamo dai tempi delle crisi finanziarie ripetute con l'impatto negativo che hanno avuto sul sistema economico e sociale e la sostenibilità e quindi la sfida oggi del mondo finanziario è ovviamente contemperare questi aspetti di finanza che ovviamente persegue finalità di reddittività di profitto con una vocazione o un orientamento che invece valorizzi i temi della sostenibilità e allora partirò dalle definizioni scusatemi correrò un pochettino ma più che lo specifico delle singole slide mi interessa qualche messaggio che possa essere comprensibile per tutti ovviamente gli studenti partono avvantaggiati perché con loro abbiamo avuto più occasioni insomma di affrontare anche questi temi la definizione che così forse mutuo e adatto in qualche modo è che questa finanza sostenibile è fatta di strumenti prodotti finanziari ma anche tecniche finanziarie in particolare poi parleremo di gestione dei portafogli finanziari cioè delle attività finanziarie quindi anche le tecniche finanziarie sono importanti e sono tecniche strumenti e prodotti di intermediari finanziari che intervengono a sostegno delle imprese imprese che nella loro gestione corrente o nei loro investimenti prestano attenzione a questi tre aspetti su cui si sta concentrando il dibattito della finanza sostenibile cioè l'ambiente environment l'impatto sociale e social e le forme di governo quelle che nell'ambito dell'impresa vengono chiamate governance e che regolano un po' i rapporti tra i vari vengono chiamati interlocutori stakeholder che siano i dipendenti che siano i fornitori quindi l'impresa vista nella sua complessità e non più semplicemente nella sua missione finalizzata come si diceva prima al profitto questa finanza sostenibile sta attraversando tutta la filiera finanziaria e sotto vi ho rappresentato in modo abbastanza schematico quella che è la filiera della finanza e quindi anche della finanza sostenibile a partire dagli emittenti gli emittenti sono quelli che mettono i titoli che raccolgono le risorse e quindi sono quelli che in qualche modo dovrebbero cercare di interpretare questo tipo di raccolta di fondi e finalizzare obiettivi di sostenibilità quindi si parte dagli emittenti dalle imprese non finanziarie che non sono solo imprese non finanziarie ma anche stati ma anche enti sovranazionali che raccolgono risorse sui mercati è importante indirizzarle nel modo corretto poi c'è tutta la filiera degli intermediari qui avete imprese banche imprese di investimento quindi gestori di fondi consulenti finanziari le assicurazioni e inserisco anche il tema delle società di rating cioè di chi valuta le informazioni degli emittenti cioè dei titoli che vengono emessi come vedremo questo è un punto particolarmente critico che verrà poi approfondato da Valeria Venturelli nella sua relazione allora agli intermediari oggi si chiedono tante cose come vedremo tra poco la richiesta viene certo dagli investitori ma in modo sempre più sollecito e rilevante dalla regolamentazione la regolamentazione sta impattando in modo significativo l'attività degli intermediari e oggi sono in corso ovvio non abbiamo una percezione così evidente ma nell'ambito degli intermediari finanziari che sono collegati a questo aspetto della sostenibilità che si impegnano nella sostenibilità sono richiesti oggi requisiti particolarmente sfidanti poi ci sono gli strumenti prodotti servizi che vengono offerti agli investitori e nell'ambito di questi servizi io mi concentrerò in particolare sui fondi comuni poi Costanza Torricelli farà un approfondimento molto interessante sulle obbligazioni perché? perché sono gli strumenti che oggi vengono emessi cioè fondi comuni fondi comuni aperti in particolare vengono emessi da società quotate le obbligazioni da enti sovranazionali e grandi società e le grandi società sono quelle forse più pronte oggi per interpretare questi obiettivi di sostenibilità e quindi è importante che le risorse che vengono raccolte attraverso i fondi comuni e i bond vadano nella direzione giusta e infine abbiamo gli investitori gli investitori normalmente la componente la componente ecco che mi smaschero è la componente più più debole è la componente che va protetta la protezione avviene come dicevo prima con la informazione con la consapevolezza con la trasparenza che le informazioni devono avere ma anche con regole che tutelino gli investitori allora il secondo titolo di queste slide è ma la finanza sostenibile è un'ennesima bolla finanziaria o un processo in grado di cambiare la qualità dello sviluppo economico ma il dibattito è questo sostanzialmente siccome siamo in presenza di fenomeni evidenti di cosiddetto greenwashing cioè il fatto che si etichettano dei prodotti e dietro non c'è la sostanza della sostenibilità di questi obiettivi ESG il dubbio è particolarmente forte cioè stiamo andando verso una situazione verso una bolla finanziaria dove alla fine distruggeremo anche come dire quelle esperienze positive che fanno riferimento a questo ambito un punto è chiaro occorre la mobilitazione delle risorse finanziarie e il mondo finanziario è l'unico che può metterle in campo perché diciamo l'intervento pubblico oggi ha dei limiti evidenti sono i debiti pubblici che aggravano le situazioni fiscali quindi si fa affidamento sempre più alla finanza privata e qui riporto un dato che viene condiviso da molti economisti che oggi raggiungere quegli obiettivi di emissioni zero di carbonio nel 2050 richiederà tra lo 0,6 e l'1% del PIL mondiale nei prossimi dieci anni la quantificazione ovviamente approssimativa ma è di una rilevanza che fa tremare nel senso si passa dai 12.000 ai 20.000 miliardi di dollari questi sarebbero i fondi che dovrebbero indirizzarsi verso questo tipo di verso questo tipo di investimento e che ci sia stata un'evoluzione una crescita e poi lo dimostreranno anche altri dati che verranno presentati esponenziale lo possiamo dimostrare con molti dati qui basta riportare quelle che sono le adesioni dei gestori di fondi ai principi dell'investimento responsabile quindi si tratta di gestori queste sono le masse gestite i 4.000 miliardi sono gestori che si sono impegnati sottoscrivendo i 6 principi dell'investimento responsabile a inserire nei propri obiettivi la sostenibilità e i tre ambiti a cui facevo riferimento allora la risposta che noi possiamo dare alla domanda precedente è una risposta ovviamente non definitiva interlocutoria il mio punto di vista e lo anticipo è che sia un processo che va considerato nella sua positività cioè un passaggio questo come dire è una trasformazione che va guidata va regolata ma è una trasformazione necessaria per i numeri che si mettevano in campo prima e ovviamente perché questo apporto di risorse sia come dire vada nella direzione giusta occorrono alcune condizioni e qui le riporto per approfondirne poi rapidamente alcuni aspetti la responsabilità sociale e ambientale delle imprese quindi stiamo parlando degli emittenti ed è da loro che deve venire anche un'iniziativa di responsabilità che non si limiti soltanto a perseguire obiettivi di breve termine di profitto la remunerazione dell'investimento perché se vogliamo che l'investitore si avvicini a questi prodotti non possiamo penalizzarlo eccessivamente dal punto di vista della redditività perché non c'è solo l'obiettivo sostenibilità c'è anche l'obiettivo unica remunerazione cioè mantenere il valore dei propri investimenti terzo aspetto regole per la trasparenza e informazioni affidabili e qui rimando ai sistemi di reti e poi educazione finanziaria e sensibilità ai temi ISG ambiente social e governance degli investitori rapidamente ho segnato o evidenziato i punti che approfondisco rapidamente esiste un trade off agli economisti piace questo termine trade off sostanzialmente un bilanciamento tra rendimento rischio e sostenibilità cioè si possono tenere insieme gli obiettivi tradizionali dell'investimento che sono rischio e rendimento con la sostenibilità se uno guarda la sterminata letteratura su questo tema quello che rileva è una evidenza empirica non univoca non è che ci siano studi conclusivi però non rilevano neanche una penalizzazione dell'investimento ISG come dire investire negli ISG almeno rende come un investimento tradizionale probabilmente non in tutti i versanti dell'intermediazione però sicuramente non è particolarmente penalizzato perché i vantaggi del investimento ISG cioè in fondi comuni in prodotti ISG è che i prodotti di questo tipo guardano ai rischi a medio lungo termine e quindi ci sono prospettive di rivalutazione nel tempo di questi strumenti normalmente si è infilato una frase inglese che non ho capito da dire fuori ma obiettivi di sostenibilità sono associati a una buona governance normalmente quindi le imprese che perseguono questi obiettivi di sostenibilità hanno anche una buona gestione complessiva c'è una maggiore resistenza delle quotazioni sono titoli che oggi passatemi il termine sono più resilienti cioè resistono meglio nelle fasi di crisi tutta da verificare questa della crisi energetica ma sicuramente del periodo covid gli svantaggi minore diversificazione del portafoglio è evidente che devo restringere il campo dei miei investimenti quotazioni che possono diventare elevate quindi minore i rendimenti perché se la domanda come si sta mostrando è una domanda molto dinamica e l'offerta di prodotti è poco i prezzi salgono e ovviamente rendono meno convenienti questi investimenti costi collegati al maggiore input di ricerca sono le commissioni cioè oggi chi vende prodotti ISG deve fare l'analisi rendimento rischio tutto ciò che comporta l'analisi tradizionale più l'approfondimento ISG e questi sono costi che si scaricano sull'investitore regole per la trasparenza sarò molto rapido questo è una figura che si parte da una direttiva sulla rendicontazione non finanziaria delle imprese cioè gli emittenti i grandi emittenti quelli con più di 500 addetti su cui poi un piano dirà cose sicuramente più analitiche e approfondite il piano d'azione della finanza sostenibile del 2018 quindi vedete sono tempi molto stretti nel 2018 parte questo piano d'azione della finanza sostenibile che sostanzialmente dice bisogna insistere sulla trasparenza sulla classificazione dei prodotti sui comportamenti degli intermediari e le regole che si stanno definendo sono regole particolarmente complesse perché ovviamente è stato messo anche al lavoro a livello europeo e qui stiamo parlando del livello europeo per non parlare di altri contesti è stato messo a lavoro panel di esperti che hanno lavorato in questi anni per definire anche classificazioni adatte un intervento importante è questo del 2021 che sta modificando anche la direttiva MIFID ma insomma è una direttiva che guarda gli investitori anche questo ed è un intervento regolamentare che sostanzialmente va a inserire categorie dei prodotti cioè va a disciplinare la tipologia dei prodotti e al tempo stesso va a disciplinare il tipo di classificazione che gli intermediari fanno della clientela a partire dall'esigenza della clientela io qui sono costretto a stringere ma a partire dal primo gennaio 2023 come vedremo nella produzione e distribuzione di prodotti finanziari l'intermediario finanziario deve tenere conto delle preferenze di sostenibilità dell'investitore e incrociarle con le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari ed è quanto stanno facendo oggi gli intermediari cercando di capire come raccogliere le informazioni dagli investitori e come tradurle in prodotti che siano adeguati quando si guarda gli investitori bisogna capire la loro conoscenza di tematiche SG la loro preferenza cioè la volontà del cliente che deve manifestare di investire in prodotti per determinate quote di attività che sono allineate alla tassonomia europea che è una tassonomia che classifica i rischi ambientali la mitigazione della climatica e cambiamenti climatici per il momento oppure prodotti che investono a quota minima in investimenti sostenibili ai sensi di quella direttiva di disclosure cioè di trasparenza e poi l'esperienza cioè bisogna tenere insieme questi tre livelli di informazione dall'investitore e tradurla in prodotti che siano adeguati quindi voi dovete immaginare intermediari che oggi stanno pensando delle matrici che sono matrici 4x5 6x10 cioè classificano la clientela dovranno classificare sempre più la clientela e i loro prodotti e sui prodotti vado ah sì sui prodotti la distinzione fondamentale diventerà fondi destinati a investimenti sostenibili che non recano danno ad altri obiettivi una volta che ho individuato l'obiettivo climatico questi prodotti non devono prevedere danni dal punto di vista sociale quindi bisogna che le regole diciamo di comportamento delle imprese siano coerenti sul versante sociale e questi lo dico per gli investitori quando gli investitori si rivolgeranno a un fondo a un gestore a un consulente e a loro sarà offerto un prodotto questo prodotto può essere articolo 9 articolo 8 oppure fondi neutrali e questo ovviamente cambierà il contenuto di contenuto diciamo di sostenibilità dei diversi investimenti non abbiamo tempo per entrare più nel merito però è una classificazione che a questo punto costringerà molti molti investitori molti gestori o consulenti che oggi qualificano ISG come tutto a classificare a restringere molto il campo bene finisco che altre informazioni possono essere utili se ci si avvicina ai fondi comuni un'informazione che ritengo utile è capire come viene gestito il fondo comune e quindi la domanda che si fa al consulente è anche è una gestione che toglie dei settori una gestione negativa cioè toglie armamenti toglie tabacco giochi d'azzardo e quindi è negativa nel suo approccio oppure è una gestione positiva cioè mette nel portafoglio i best in class come si dice cioè i titoli migliori dal punto di vista del rating e qui entra in campo il rating oppure una gestione attiva cioè un azionariato attivo dell'investitore quello che viene chiamato engagement cioè mi impegno attraverso questi fondi a far sentire la mia voce nelle assemblee dei soci infine è importante i consulenti e i produttori dovranno chiarire quanto è rilevante il contenuto ESG dei loro prodotti e questo non sarà facile perché pensato a un fondo comune con centinaia e centinaia di imprese non potrà dovrà valutare impresa per impresa e riassumere questa informazione a livello complessivo bene direi che insomma come piatto iniziale c'è molto da discutere passerei la parola a Costanza Torricelli che farà un focus sì se le domande le potete fare in qualsiasi momento e noi poi le tagliamo subito perché dobbiamo andare a sì sente meglio allora innanzitutto grazie io mi scuso perché purtroppo pare che oggi a Modena sia stato organizzato tutto il 25 di ottobre quindi poco dopo aver terminato la mia presentazione me ne dovrò andare quindi comunque invito per tanto invito chi volesse fare delle domande a interrompermi tranquillamente credo che deluderò il professor Landi e anche l'amico Antonio perché in realtà non riesco a fare un approfondimento ma per questione di tempi quindi l'obiettivo è quello il mio obiettivo è stato quello di dare fare un po' chiarezza più che sul tema e innanzitutto credo che per fare chiarezza anche per inquadrare questi fenomeni che si stanno diffondendo sia opportuno però ricordare che la finanza sostenibile non è poi cosa così nuova il fenomeno è diventato molto di moda in questi ultimi tempi la regolamentazione come risultato molto chiaramente dall'intervento precedente sta accelerando tutto ma diciamoci la verità è dal 1999 nel famoso UN Global Compact quindi delle Nazioni Unite che l'allora segretario generale Kofi Annan richiamò a fronte di una platea di 180.000 imprese da 180 paesi non so io insomma numeri molto elevati a un patto globale di principi e valori condivisi che darà un volto umano al mercato globale quello è stato il primo vero passo che poi è aperto anche alla Corporate Social Responsibility e altro vero è che è stato solo probabilmente nel 2004 che con un altro famoso documento che è il UN Global Compact report dal titolo Who Cares Win in cui praticamente sono state date queste raccomandazioni da parte dell'industria finanziaria perché partecipava il goto dell'industria finanziaria e all'industria finanziaria per meglio integrare Environmental Social Incorporated Issues in the Analysis Asset Management and Securities Brokerage qui nasce ISG quindi l'acronimo ISG è maggiorenne siccome ultimamente che qualcuno un po' ci sta cavalcando come se fosse la novità del momento forse non ci siamo preparati a sufficienza ma anche gli strumenti ISG che venivano menzionati è da tempo che sono in circolazione magari un po' meno forse a volte in Europa poi qual è stato a mio avviso adesso chiaramente io qui do anche un po' una mia visione il vero propulsore della finanza sostenibile è stata la famosa agenda ONU 20 e 30 per lo sviluppo sostenibile secondo me è stato il punto un po' di cerniere di chiarezza perché nell'agenda ONU 20 e 30 è stato definito lo sviluppo sostenibile e definendo lo sviluppo sostenibile è stato poi possibile o perlomeno io lì vedo il punto di chiarezza su che cos'è esattamente la finanza sostenibile nell'agenda ONU 20 e 30 si definisce sviluppo sostenibile quello sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni quindi con il linguaggio appunto degli economisti è ovvio che il concetto di sviluppo sostenibile è un concetto di quanto meno medio se non lungo termine questo per segnalare anche un po' un uso del aggettivo sostenibile a volte secondo me improprio che viene fatto perché non sempre viene associato a diciamo decisioni che garantiscono nel soddisfacimento dei bisogni di più generazioni quindi essendo un concetto di medio e lungo termine di lungo termine è per forza un concetto trasversale e infatti richiede l'armonizzazione di tre elementi fondamentali che sono la crescita economica l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente questa è sostenibilità se noi parliamo solo di ambiente non è per me necessariamente sostenibilità in quanto possiamo se vogliamo azzerare le emissioni chiudiamo tutte le aziende con emissioni elevate o con emissioni punto e sicuramente abbassiamo le emissioni certo questo ha implicazioni di tipo sociale come ci possiamo immaginare in termini di disoccupazione e di caduta dei redditi troppo forti e quindi sostenibilità deve proprio col significato matematico della parentesi graffa cioè tutte queste tre aspetti devono essere soddisfatti contemporaneamente per potersi parlare di sostenibilità se questa è la sostenibilità la finanza sostenibile è quella finanza pubblica privata o anche partnership pubblico privato perché ci sono strumenti sui quali non abbiamo modo di parlare oggi come i social impact bond che sono tipici esempi di partenariato pubblico privato che è al servizio dello sviluppo sostenibile questo quindi come si connota a mio avviso e questo poi spiega un po' alcune considerazioni che faceva anche collega sul rendimento e che farò io dopo nella finanza sostenibile la gestione del denaro che è un po' l'accezione generale della finanza è mirata sia all'ottenimento di un ritorno economico sia all'ottenimento di un ritorno sociale o ambientale quindi queste due componenti devono coesistere perché se abbiamo soltanto il ritorno economico abbiamo la finanza tradizionale se abbiamo soltanto il ritorno sociale ambientale abbiamo un atteggiamento sostanzialmente filantrofico e quindi la collocazione della finanza sostenibile nella scala è a metà proprio cioè a metà non necessariamente la metà esatta comunque la finanza sostenibile sta fra la filantropria che non ovviamente ha preoccupazioni di ritorno economico e la finanza quella tradizionale chiamiamola for profit dove il ritorno economico è l'unica guida che è quella poi che diciamo perlomeno fino a poco tempo fa forse cambieremo un po' i nostri programmi ma io ricordo in primo corso di micro che ho frequentato gli agenti massimizzano una funzione di utilità del profitto gli individui massimizzano una funzione di utilità che funziona solo della ricchezza non ci sono altre considerazioni nel paradigma economico tradizionale e ecco quindi vengo poi mi avvicino a dire poche cose sugli strumenti della finanza sostenibile è chiaro che sono una varietà catalogabili come è già detto insomma strumenti di debito tipo l'obbligazione e dirò qualcosa solo su questo azioni adesso che se le azioni sono sostenibili se hanno dei rating di sostenibilità e so che dirà qualcosa Valeria ma anche dei contratti pensiamo ai mutui green ad esempio le banche vedete delle pubblicità sui giornali hanno questi mutui in cui il tasso può essere diciamo scontato a un'agevolazione se il mutuo viene utilizzato per un efficientamento della casa che sia certificato però da un passaggio di classe energetica è un esempio di strumento della finanza della finanza verde ecco per me questo non lo chiamerei strumento di finanza sostenibile è uno strumento di finanza verde di finanza green ecco sulle obbligazioni mi era stato chiesto di dire qualcosa sulle obbligazioni perché su questo tema ci ho lavorato in particolare con la la dottoranda che tra l'altro è qui in aula e quindi se io me ne andrò le domande verranno fatte a lei anche ci sono state alcune tesi discusse insomma è da tempo che i qui presenti in questa tavola portano in discussione i loro laureanti tanti tesi su questo tema quindi credo che insomma questo ha testimonianza dell'interesse che abbiamo sincero per queste cose le obbligazioni per fare chiarezza sono classificate in quattro tipologie green bond social bond sustainability bond quindi bond di sostenibilità sono diversi dai social e dai green e sostenibilità linked bond iniziamo io ho messo in eretto i primi due perché sono quelli su cui farò qualche considerazione in più parto dai social bond e parto dai social bond perché sono un po' più negletti ma di fatto sono come i green bond che definizione do dei social bond ecco qui emerge un altro problema cioè che non ci sono definizioni regolamentari ci sono solo delle linee guida quindi la definizione che vi ho riportato è tratta dalle linee guida che sono linee guida volontarie dell'International Capital Market Association una delle ultime versioni 2021 che sono quelle che però vengono utilizzate ad esempio dal database di Bloomberg che gli studenti conoscono perché utilizzano per etichettare l'obbligazione come social piuttosto che green come vedete dalla definizione è qualsiasi tipo di obbligazione i cui proceeds ricavato come ricavato viene o un a montare qui viene utilizzato esclusivamente per finanziare o rifinanziare un progetto di tipo sociale che sia allineato con i principi con le quattro componenti fondamentali dei social bond principles quindi il social bond ricade nelle categorie come anche green bond delle cosiddette obbligazioni tematiche se vi riportassi cosa che non ho fatto per risparmio di tempo la definizione di green bond è uguale solo che il ricavato viene utilizzato per finanziare o rifinanziare dei progetti ambientali con allineati con questi principi diciamo ha una struttura delineata sull'uso di questo ricavato sul processo per la selezione sulla gestione e anche sul reporting che sono tutti pezzi fondamentali se avessimo tempo di approfondire anche per evitare poi fenomeni quali il green washing o in questo caso il social washing tanto per darvi un'idea a me piace un po' perché sono stati forse anche meno studiati ma i social bond li trovo interessanti perché possono essere anche un utile strumento di diciamo finanza pubblica perché si prestano ad esempio i progetti tipici dei social bond sono l'accesso ai servizi essenziali come salute educazione oppure l'accessibilità di proprietà immobiliare la generazione di impiego eccetera e beneficiari quindi sono ad esempio categorie che sono sotto la linea di povertà oppure esclusi non disoccupati e così via l'esempio di questi progetti credo che spieghi un pochino quel salto che vedete la pandemia ha fatto fare un salto nelle emissioni dei social bond quindi è un mercato molto più indietro rispetto a quello dei green bond che si è sviluppato prima però con la pandemia c'è stato questo boom di emissioni che è continuato e questo a fronte del fatto che i social bond meglio si prestavano a l'esigente che sono emerse in corrispondenza della pandemia quindi esigenze di tipo salute disoccupazione sussidi e altro e cosa si può dire dell'Unione Europea ecco perché forse anche tutta quella diciamo consapevolezza che di cui parlavo prima già da quasi vent'anni di queste tematiche magari in Unione Europea è più recente soprattutto vediamo com'è la distribuzione ecco in termini di emissioni come vedete cappeggia la Francia ma la Francia cappeggia perché ci sono molte emissioni da parte di agenzie governative per l'impiego e quindi vengono molto utilizzati e ricadono nell'ambito dei social bond classificabili come tali in base ai principi che vi dicevo sopra anche bond di queste agenzie governative per cui insomma sono uno strumento interessante non solo per le imprese private ma anche per altri tipi di istituzioni sui green bond appunto avevo deciso di sorvolare di più come vedete un mercato già più più ricco da più tempo e c'è meno crescita recente perché era già piuttosto ricco e forse c'è stato più interesse anche per bond di tipo sociale tanto per farvi un esempio ad esempio alcune banche che mettono bond che vengono etichettati come sociali sono comunque bond il cui ricavato obbligazioni il cui ricavato viene utilizzato per finanziare piccole e medie imprese è comunque etichettato bond sociale quindi social bond perché è un plafond destinato alle piccole e medie imprese quindi anche questo è interessante perché sembra un po' al limite ecco in Europa sui green bond però l'Europa è al top per emissioni questo forse conoscendo alcune parti del resto del mondo non ci stupisce e come è messa l'Italia beh l'Italia adesso questi non sono dati non recentissimi comunque l'Italia non è ovviamente capofila ci sono in termini quantitativi ci sono paesi che decisamente la precedono un cenno le altre due avevo accettato quindi green bond e social bond sono bond tematici ma non si possono chiamare bond di sostenibilità perché guardano una sola dimensione e invece quelli che si chiamano sustainability bond cioè obbligazioni di sostenibilità sono quelli cui i proventi sono utilizzati e come al solito come la definizione di prima esclusivamente per finanziare o refinanziare una combinazione di progetti verdi e sociali quindi ci devono essere queste due connotazioni e che sono i bond della ciambella voi volete quelli però ecco secondo me è interessante fare un po' chiarezza perché in giro a volte insomma sui bond perlomeno queste sono le definizioni le categorie e poi ci sono i sustainability linked bonds che sono una cosa ancora diversa perché qui c'è a lato dell'emissione un commitment a un miglioramento della sostenibilità legata a degli indicatori proprio dei key performance indicators molto precisi e quindi sono un pochino più complicati e infatti sono però quelli un po' di seconda generazione perché alla fin fine green social e sustainability sono poi bond tradizionali hanno soltanto una destinazione e non poche tematiche di ecco di definizione di rating perché anche loro hanno sono soggetti ai rating eccetera concludo dicendo due parole sul tema rendimento che accennavi già in termini più generali cosa possiamo dire sul rendimento di queste obbligazioni green o social che siano cioè la domanda è è maggiore o minore dei loro equivalenti non green e non social ovviamente c'è per i sparibus cioè se io confronto due bond che hanno lo stesso emittente la stessa durata lo stesso tasso cedolare quale rende di più rendono uguali allora la letteratura definisce un oggetto che si chiama green premium oppure social premium social premium è un po' meno diffuso perché c'è meno stata finora meno attenzione il green premium è il differenziale fra il rendimento di un green bond oppure di un social bond se volete definire il social premium e il rendimento di un bond convenzionale cioè otherwise equivalent conventional bond cioè che è uguale in tutto per tutto il punto è rende di più e quindi questo green premium è positivo o è negativo diciamo la letteratura partiva dalla premessa che questo green premium avrebbe dovuto essere negativo dovrà rendere di meno perché il green bond e poi perché gli investitori investono green se vogliono un rendimento più alto allora sono peggio di quelli tradizionali vogliono essere compensati la letteratura empirica non è assolutamente conclusiva al riguardo qui parlando di fronte a un docente intermediario anzi è più di uno anzi è più di due tre tanti chiaramente bisognerebbe distinguere se sul mercato si ha l'emissione o se sul mercato secondario gran parte degli studi sono non al momento dell'emissione ma sul mercato se pocoondario ce n'è anche l'atto dell'emissione in ogni caso sostanzialmente non è detto che sia negativo che è la premessa e se c'è è molto piccolo proprio pochissimi punti base e su questo la letteratura e anche il lavoro che abbiamo fatto con Beatrice Bertelli è abbastanza concorde e quindi questo fenomeno del green premium negativo che è noto come greenium quando è negativo viene chiamato greenium non è assolutamente scontato e la stessa cosa per i social bond a questo punto mi avvio veramente alla conclusione no c'ho due grafici ma non posso anche saltarli ecco questi sono due grafici di due lavori questo è un lavoro fatto con una tesista che attualmente lavora alla banca centrale europea per andare a vedere questi premi bisogna andare a prendere delle coppie di bond che siano davvero identici e quindi bisogna usare una procedura di matching che poi non è mai perfetto e come vedete ad esempio qui quelli verdi sono dei anzi qui abbiamo messo quelli blu sono i social bond e quegli altri sono i conventional bond l'andamento è abbastanza uguale però sembrano diversi questi rendimenti quindi verrebbe da dire che il premio c'è però qual è il problema che non si riescono a copiare e quindi questo premio è determinato da altre caratteristiche ad esempio liquidità perché verosimilmente un social bond un green bond non ha la liquidità di un bond convenzionale e infatti poi una volta che si va a pulire per queste cose cioè a fare un lavoro econometrico che ti è in conto di questo in realtà il premio non c'è è una cosa simile nel lavoro fatto con Beatrice Bertelli sui green bond qui c'erano più coppie perché i social bond sono anche meno sempre accoppiate lì avrei dovuto scrivere il differenziale è solo green c'è un errore e soprattutto la linea che vedete crescente è il numero dei bond che vengono usati per questo tipo di stima e come vedete sono molto aumentati nel tempo quindi e nel momento in cui sono aumentati c'è anche stata un po' più stabilizzazione a parte qualche spikes ma in corrispondenza del covid quindi ecco qui che mi avvio davvero alla fine con questa slide concludo un po' verrebbe da dire ma insomma sembra quasi esserci un po' una convergenza comunque una volta che puliamo per quelle differenze magari legate a liquidità o altre caratteristiche il solo aspetto green o il solo aspetto social non è quello che determina il differenziale di prezzo fra questi bond in qualche modo la domanda che io pongo è ci si sta forse avviando un po' a un new normal ormai questa connotazione sta diffondendosi talmente tanto che in qualche modo non è neanche più prezzata quindi probabilmente sta succedendo può essere che si vada verso una situazione di questo tipo rimane comunque la domanda cioè se i rendimenti come pensavano i sostenitori del green sono peggiori di quelli di un bond condizionale c'è molto da fare c'è molto da studiare sul paradigma sottostante quindi cosa fanno gli investitori non massimizzano più solo l'utilità della ricchezza ma massimizzano anche l'utilità del fare del bene c'è la famosa frase fare bene facendo del bene e quindi sta cambiando proprio il paradigma decisionale economico decisionale e nel tema anche di ottimizzazione di portafoglio un po' ci sono dei tentativi di andare in quella direzione però rimane il punto delle imprese le imprese perché lo fanno perché anche lì se non hanno un vantaggio di costo di minor costo perché lo fanno beh insomma un po' si è già accennato un po' c'è la regolamentazione che sta inducendo questo cambiamento e la regolamentazione e soprattutto molta chiarezza di metriche la capacità di misurare quanto un bond e green perché poi ci sono varie sfumature di green varie sfumature di greenness di socialness possono determinarle differente e se non si lavora molto sulla metrica sulla misurazione il rischio di greenness social washing è molto alto io mi scuso per la corsa ma grazie del contributo quindi passiamo a Valeria hai posto poi a un tema anche della liquidità che interessa sicuramente gli investitori cioè avvicinarsi a questi strumenti finché il mercato non è un mercato sviluppato pone sicuramente problemi dal lato della liquidità cioè di poter smobilizzare l'investimento quindi una certa cautela anche rispetto a queste caratteristiche dei bond va prestata non c'è allora sono uscito la ricarichiamo ce l'hai è vero oddio la risettiamo non si riesce a risettare quando ho cambiato io sei uscito oddio bene ci prendiamo qualche domanda intanto qualche domanda va bene invertiamoci invertiamoci e poi tu e poi dopo tu io vado un piccolo a carico ah perfetto perfetto allora passiamo la parola il piano bene così ottimizziamo i tempi ovviamente è colpa della mia gestione improvvida perché io apro chiudo senza consapevolezza e quindi niente per fortuna c'è qualcuno più bravo di me sì allora intanto grazie di questa opportunità io ero preparata a parlare per ultima perché di solito i ragionieri e i commercialisti arrivano all'ultimo a fare i conti no e quindi insomma però nell'arrivare per ultima volevo cominciare un po' questa riflessione lato impresa proprio ragionando ma perché le imprese devono effettivamente misurare la sostenibilità allora hanno già i miei colleghi scoperto un po' l'assassino dicendo che c'è una normativa che lo richiede però a parte la normativa a parte quello che insomma nei prossimi anni andremo a fare cioè perché effettivamente ha senso misurare anche la sostenibilità basta l'utile non basta il profitto qual è diciamo la convenienza e la spinta per parlare di sostenibilità siamo diventati tutti più etici ad un certo punto rispetto alle generazioni passate non penso che sia questa la ragione allora volevo appunto riflettere insieme a voi proprio su su questo fatto perché è vero sì che ci sono tanti aspetti normativi però è anche vero che abbiamo dell'esperienza su questo quindi le imprese rendicontano e misurano la sostenibilità da tantissimo tempo io ho portato quello che vedete nella foto un documento che custodisco gelosamente che si chiama guardate un po' rendiconto morale ed economico della croce rossa ed è datato non dopo la normativa del 2016 ma datato 1882 quindi la necessità di misurare oltre il profitto è una necessità stessa per gestire le imprese a maggior ragione se oggi andiamo a misurare andiamo a valutare andiamo a finanziare imprese che nei loro bilanci se andiamo a vedere la parte la famosa parte tangibile patrimoniale non spiega tutto il loro valore di mercato quindi la necessità stessa per capire catturare il loro valore e per gestirle perché l'altra riflessione che vi invito a fare sui temi della sostenibilità quindi sia l'impatto ambientale l'impatto sociale non sono qualcosa di astratto ma sono le risorse che le imprese gestiscono per generare il profitto e quindi siccome sono le risorse che gestiscono e impiegano nei processi produttivi dobbiamo misurarli per tutelarli e per ottimizzare queste risorse sia risorse ambientali sia le persone le risorse ovviamente sociali quindi sì sicuramente c'è la normativa adesso mi avvio a darvi qualche spunto su quello che ad oggi è lo stato dell'arte e quello che sarà il futuro prossimo su questi temi e quindi quello su cui le imprese si stanno misurando per citare sempre la stessa parola magica però è ovvio che c'è anche un contesto e ci sono anche delle esigenze proprio per fare bene la parte economica che richiede anche di considerare le misure sociali ed ambientali quindi il movimento e la normativa diciamo ovviamente nasce in un contesto già propositivo su questo a parte il documento che vi ho fatto vedere sulla sulla croce rossa ci sono tanti bilanci di sostenibilità di imprese italiane che da più di vent'anni che rendi contano i temi della sostenibilità e gli ESG e quindi in questo contesto ovviamente anche la normativa diciamo ha trovato delle best practice un terreno fertile per proporre queste misure per proporre appunto anche i bilanci di sostenibilità per la prima volta si parla di ESG e insomma anche di fattori extraeconomici in una direttiva europea che diventò legge nel 2016 in Italia che obbligò le imprese delle grandi dimensioni a produrre questa informativa che all'epoca si chiamava e si chiama tutt'oggi disclosure non finanziaria dichiarazione non finanziaria tutto quello che non è finanziario per fortuna io sinceramente questa definizione insomma era troppo ampia ma per fortuna quello che è l'aggiornamento di questa di questa normativa l'ha riportata sull'ambito della sostenibilità andando a definire un po' meglio che cos'è non finanziario quindi che cos'è che le imprese devono misurare e tutt'oggi in vigore questa normativa prevede la produzione di queste misure da parte delle aziende di grande dimensioni quindi prevalentemente quotate oltre i 500 dipendenti le banche e le assicurazioni capite bene che è una parte molto piccola del tessuto imprenditoriale italiano e magari non è neanche per certi versi la più rappresentativa la più beh su questo sulla virtuosità sulla parte etica magari ma ci sono ovviamente tanti aspetti da considerare però queste imprese ovviamente spesso sono dei gruppi che hanno nel loro interno delle altre imprese quindi anche altre imprese di più piccole dimensioni non erano obbligate appartenendo a questo gruppo ovviamente rientrano e hanno da tempo insomma prodotto questi documenti queste misure la cosa importante di questa normativa è che oltre a definire poi quali ESG cioè quali indicatori ambientali sociali e di governance perché potete immaginare potenzialmente ce ne possono essere diversi centinaia anche su questo ecco la normativa adesso vi farò vedere si concentra su alcuni temi diciamo principali su cui misurarsi ma oltre a questo oltre quindi a inserire a cominciare a dare anche un volto a questi ESG ha fatto un passo molto importante che è quello che vedete nell'ultima frase ovvero inserire queste misure anche nelle strategie nelle politiche aziendali e considerando i rischi rispetto ai temi ESG questo significa non solo misurare ex post quello che è la situazione ad oggi ma anche proiettare queste misure su quelle che sono le scelte future questa è stata un'innovazione forte di questa normativa perché in un certo senso ha portato i fattori ambientali e sociali in un'ottica programmatica allo stesso modo come quelli economici quindi non bastava solo fare il bilancio di sostenibilità ma ogni anno usare questo bilancio anche per rilassarsi degli nuovi obiettivi e integrare queste misure insieme a quelli che erano gli obiettivi economici molto velocemente perché come vi anticipavo di tematiche ambientali sociali e di governance ne possono essere veramente tante si passa da aspetti di emissioni a fonti energetiche rinnovabili insomma c'è veramente tantissimo su queste e anche le misure sono altrettante ad oggi quelli che sono i temi che riguardano l'utilizzo delle risorse energetiche quindi le fonti rinnovabili e non rinnovabili anche qua come misurate come rendicontate ovviamente ci sono tanti standard che guidano su questi temi le emissioni di gas ad effetto sera le emissioni inquinanti l'impatto sull'ambiente e sulla salute e sicurezza ovviamente delle persone dei lavoratori aspetti in generale sociali quindi quella S del social qua è tradotto in termini di dipendenti di impatto che l'impresa soprattutto produce per i suoi dipendenti e alcune di queste tematiche riguardano la parità di genere ma anche in generale pratiche di salute e sicurezza sul lavoro e ovviamente anche un dialogo con il territorio con gli altri stakeholder e quindi un social che si estende anche oltre ai confini aziendali altro tema sono il rispetto dei diritti umani anche se potete immaginare che in questo ambito parliamo di responsabilità legale più che sociale però insomma era collocate insomma questo tentativo come un primo primo sforzo a rendicontare quindi anche questi questi temi diventavano importanti inserire in questi bilanci così come anche la lotta contro la corruzione bene nel mentre sono successe tante cose è arrivata anche la regolamentazione a livello diciamo di finanza sostenibile come avete sentito e quindi l'evidenza di quello che è l'impatto ambientale e sociale ancora più vicino a noi e quindi la necessità di aggiornare di ampliare queste misure lo stato dell'arte quindi ad oggi è questo aggiornamento della normativa che ha ampliato come vi ho anticipato la necessità di misurare gli aspetti sociali ed ambientali di governance anche alle imprese di minore dimensione non è ancora entrata in vigore questa normativa che hanno denominato non più disclosure non finanziaria ma corporate sustainability reporting quindi reporting sulla sostenibilità dando proprio una connotazione ben precisa su le misure previste e tra le altre tematiche innovative che ha inserito oltre a quelle precedenti un elemento importante è anche la rendicontazione le misure non solo dell'impresa finale ma di tutta la catena di approvvigionamento e quindi qua ancora di più non solo l'impresa di grandi dimensioni che è obbligata a rendicontare la sostenibilità ma anche i suoi fornitori e tutta la catena di approvvigionamento devono dimostrare di rispettare i criteri che vi ho elencato e questo ovviamente è una grande sfida ecco perché anche il titolo l'ho colto molto volentieri in questo ambito ovviamente c'è anche una parte legata alla governance che si amplia perché inizialmente avendo come target le imprese quotate è ovvio che le tematiche di governance come potete immaginare sono ben regolamentate da quello che è ovviamente Borsa Italiana e una serie di altre diciamo fonti di regolamentazione quindi la necessità qua di avere come diciamo target anche imprese non necessariamente quotate di minore dimensioni portato anche alla rivisitazione di quella G che ovviamente è la parte relativa alla governance quindi da una stima che però questa prendetela soltanto sui parametri iniziali si pensa che passando da le imprese con 500 dipendenti a quelle a 250 si passerà diciamo a dalle 11.000 che rendi contano per obbligo oggi a 49 nuove imprese 49.000 imprese e ovviamente la sfida è di identificare uno standard comune non che non ce ne siano sono a base volontaria e anche consolidati nel tempo uno tra tutti il Global Reporting Initiative ha 25 anni di storia quindi ben consolidato su questo tema del reporting della sostenibilità però capite bene che qua bisogna fare un salto che gli porta questi indicatori queste misure all'interno anche del bilancio tradizionale quindi il compito ha lo standard setter per eccellenza in Europa ovvero European Financial Reporting Advisory Group che sta elaborando uno standard per tutte le imprese quindi non solo le grandi non solo le quotate non solo le banche le assicurazioni ma anche le PMI adesso senza entrare nei tecnicismi di questo documento ma mi piaceva riportarvi un punto che veniva già messo al centro di questo processo ma ancora di più con questa nuova normativa che è quella che viene chiamata la doppia materialità dei temi che cos'è proprio perché ci sono tanti temi di sostenibilità tante misure allora bisogna darci delle regole per capire da dove iniziare qual è per un'impresa che opera nella provincia di Modena un'impresa manifatturiera il tema ambientale sociale di governance principale sui quali e sulle quali dovremmo per guidare questo processo questa scelta si propone questo principio della doppia materia realità e la doppia materialità prevede un test se lo vogliamo chiamare così per tutti questi indicatori queste misure della sostenibilità che dovrebbero essere rilevanti sì per l'impresa perché è l'impresa che sta misurando sta gestendo e sta rendicontando ma deve essere anche rilevante per noi per il pubblico per gli stakeholder a partire dagli azionisti ma ovviamente clienti dipendenti fornitori la comunità e tutti quanti quindi la guida nel selezionare e rendicontare le tematiche di responsabilità ambientale sociale e di governance dovrebbe passare anche attraverso quello che sono gli interessi e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder perché è ovvio che queste tematiche impattano l'aspetto economico ma è anche vero il contrario e su questo bisogna ascoltare appunto i diretti interessati i vari stakeholder poi adesso su PMI vi ho accennato che appunto saranno il nuovo target di queste misure l'altra novità è la richiesta la necessità di avere un processo di revisione di certificazione di audit perché questi documenti ovviamente vengono prodotti dalle aziende secondo i standard secondo quanto abbiamo visto ma comunque le informazioni sono autodichiarate e quindi la necessità di avere una verifica esterna di un revisore una verifica di una persona che entra nel merito e certifica questi bilanci questa è un'altra novità molto importante e rilevante anche per la professione dei dottori commercialisti dei revisori contabili che ovviamente sono chiamati in causa ad effettuare questa certificazione poi sono tematiche che mettono insieme tanti tanti stakeholder come primo devono essere comunicate quindi questi sono documenti e misure che devono essere comunicate la nuova normativa prevede anche l'obbligo attraverso appunto questo formato specifico quindi sicuramente i temi che si stanno affrontando anche dall'EFRA che dagli standard nuovi sono quello che vi ho citato della materialità e anche insomma rendere comparabili queste misure tra settori senza perdere di vista la comparabilità e questa parte della G che loro hanno chiamato ovviamente G plus che va ad ampliare un po' il tema della governance anche relativamente a quello che è l'etica aziendale la qualità del dialogo di relazione con gli stakeholder la reputazione il brand management e così via quindi io ho fatto una panoramica generale ovviamente sono a disposizione i miei studenti lo sanno che dedichiamo ovviamente lezioni intere a ciascuno di questi argomenti però era per dare un po' un'idea di quello che le aziende stanno facendo su questo tema e un po' il futuro prossimo che andiamo ad affrontare perché come concludo rispondendo a modo mio un po' alla domanda iniziale ovvero perché rendi contare anche il sociale e anche la parte ambientale perché siamo abituati a contare i numeri ma contiamo sulle persone quindi quello che realmente conta è usare anche le misure di ESG per far contare le persone l'ambiente adesso il compito più difficile a Valeria non solo di recuperare il file ma anche di intrattenere su un tema che poi diventa cerniera rispetto a tutte le spaccettature che abbiamo affrontato perché appunto parlare di rating significa parlare di misurazione di come tradurre queste misure in informazioni e in orientamenti anche per gli investitori quindi Valeria a te difficile compito grazie 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 a tutti per questo invito e colto l'occasione molto volentieri per cercare un po' di sistematizzare questo tema che in realtà è stato richiamato secondo me in tutte le in tutte le relazioni che mi hanno preceduto e vorrei darvi innanzitutto farvi capire perché questo tema del tema dei rating ESG è un tema importante e lo sarà sempre più vi do qualche numero solo cioè allora qui vi scrivo gli asset selezionati con una lente una delle tante lenti ESG cubano anzi cubavano nel 2020 35.300 miliardi e rappresentano più di un terzo in realtà al 36% di tutti gli asset in gestione di questi 35,3 trillion 3 trillion sono direttamente ancorati a una metrica ESG a un rating ESG faccio riferimento alle strategie best in class e tematiche di cui parlava prima Andrea quindi sicuramente il tema dei dati dei rating è un tema rilevante una crescita esponenziale trainata da due principali driver che sono uno ovviamente l'interesse dell'investitore verso il prodotto sostenibile e due tutto l'impianto normativo che abbiamo visto in precedenza abbiamo fatto riferimento a IDD MIFID 2 SFDR eccetera che in realtà vincolano l'intermediario a diciamo a certi requisiti di disclosure che utilizzano in parte anche questi dati rating ESG quindi cerchiamo di capire che cos'è un rating ESG allora rating ESG è un rating anche chiamato rating di sostenibilità quindi sono spesso numeri codici alfanumerici che vengono assegnati da delle agenzie di rating ESG che elaborano informazioni di carattere non finanziario che cosa mi indica questo rating di sostenibilità un po' l'orientamento comunque la sensibilità dell'emittente tendenzialmente o di un'impresa verso queste tematiche ambientali e sociali di governance allora io sono stata molto alta in queste prime tre righe perché perché manca una definizione di rating ESG cioè manca una definizione condivisa il fatto per cui manca una definizione condivisa complica anche la delimitazione del mercato di riferimento quindi con tutti i temi che ciò si trascina con tutte le conseguenze che ciò trascina vi riporto anche negli ultimi due anni prima IOSCO e poi l'ESMA in realtà hanno lavorato su questo tema delle definizioni ESG qui vi riporto la definizione che ha dato ESMA in un position paper dell'anno scorso dove il diciamo definisce il rating ESG come un'opinione in merito all'impatto su o all'esposizione ai e si torna al tema della doppia materialità in questo caso ai fattori ESG di un'entità di un emittente o di un titolo di debito l'allineamento con gli accordi climatici internazionali o le caratteristiche di sostenibilità emesse utilizzando un sistema di classificazione definito di classi di RAT anche questo un'ampia una definizione molto ampia che sottende due view contrapposte diciamo sono differenze molto fini però le view sono nettamente contrapposte che cosa mi misurano i rating ESG abbiamo una prima famiglia di rating che vengono chiamati ESG risk ratings che valutano i rischi ESG quindi l'impatto di questi fattori sulla bottom line dell'azienda quindi quali sono le conseguenze sul valore dell'impresso quando si parla di rating di MSCI queste sono sigle che poi vedremo di Sustainalytics Standard & Poor's questo è il loro concetto di materialità una materialità di carattere finanziario esiste poi invece un'altra famiglia di rating che sono i cosiddetti ESG impact ratings che noi li vediamo tutti con l'acronimo ESG score ESG rating in realtà dietro c'è un approccio molto diverso che invece diciamo abbracciano il tema della doppia materialità quindi oltre a valutare come i rischi impattano sul valore economico valutano anche come le attività del singolo emittente impattano sulla società quindi sull'ambiente esterno di riferimento quindi due famiglie di rating diverse a cui si aggiungono tante altre soluzioni produttive ad esempio Bloomberg che tutti noi conosciamo pubblica un ESG rating ma in realtà è un rating sulla disclosure quindi sulla qualità dell'informativa ESG così come ci sono tante altre società di rating ESG che valutano un solo ambito ad esempio CDP valuta il rischio ambientale ISS valuta la qualità della governance ma potremmo stare qua un altro po' allora vi presento adesso queste due due tavole è una tavola sinottica densa se volete ovviamente non entrerò per motivi di tempo nelle singole celle ma qui che cosa vi riporto vi riporto le principali sei agenzie di rating ESG che si chiamano MSCI Sustainalytics e ISS ESG che queste sono i primi tre player attivi a livello dell'industria hanno una quota di mercato più o meno del 60% a livello mondiale e poi ci sono invece le altre tre società che sono tra i principali player quindi attivi quindi ho selezionato gli operatori principali che cosa mi serve questa tabella per farvi capire quali sono uno le analogie tra queste società sono molto poche lo premetto e invece insistere un po' di più sulle differenze e quali sono le analogie che noi vediamo tra le varie agenzie di rating ma solitamente funziona in questo modo ognuna di queste agenzie inizia con la valutazione del singolo pilastro quindi c'è una valutazione sul pilastro ambientale una valutazione sul pilastro sociale la valutazione della governance poi con qualche meccanismo queste le singole valutazioni vengono messe a sistema e viene creato questo score o rating ESG poi ci sono molte agenzie tipo ad esempio Refinitiv che vanno a associare queste valutazioni ad esempio le controversie eventi che possono dare origine a rischi reputazionali insomma non entro in questi temi non ho tempo l'altra analogia è che comunque tra le diverse agenzie sono stati diciamo individuati una serie di item ricorrenti di metriche che vengono utilizzate o di attributi che vengono analizzati ad esempio sull'ambiente vengono analizzate le emissioni vengono analizzate tutto ciò che è gestione delle risorse in particolare i rifiuti e l'acqua la biodiversità sulla parte sociale il clima ambientale scusate il clima aziendale tutti i temi di genere che esistono all'interno dell'organizzazione nei diversi livelli dell'organizzazione per quanto riguarda la governance è stato richiamato anche prima tanta importanza a quella che è l'etica alla composizione quali quantitativa del consiglio di amministrazione le relazioni con gli stakeholder eccetera quindi le analogie tendenzialmente sono queste due entriamo sulle differenze e quelle differenze sono tante allora le differenze iniziamo qui ripercorro la tabella e le varie sezioni per farvi capire dove in realtà stanno le divergenze divergenze e i posteggi questo è abbastanza vero anche per l'agenzia di rating ma qua troviamo due diverse sistemi di valutazione il più comune sono i percentili nella scala 0-100 il tempo è che lo 0 non indica la situazione peggiore ma a volte indica la situazione migliore ad esempio per Sustainalytics lo vedo nella seconda colonna Sustainalytics valuta l'esposizione al rischio 0 vuol dire rischio nullo quindi score migliore in assoluto per Refinity e Alessandra e Pursem quindi mi sposto verso il fondo di questa tabella invece lo 0 la situazione è peggiore altre società invece di usare i percentili usano le lettere ad esempio MSCI usa la scala AAA C che ricorda molto da vicino il giudizio di rating credito questo diciamo ha posto un po' sotto osservazione MSCI ma non è l'unico ad esempio anche ISS valuta nella scala più di meno quindi dobbiamo fare attenzione come ogni fornitore in realtà pubblica il proprio giudizio di rating altra differenza le fonti che vengono utilizzate quali sono le fonti di informazione tutte più o meno usano informazioni pubbliche bilancio semestrale dichiarazione non finanziaria ma ci sono società che il web ci fanno tante vengono raccolte molte informazioni sui siti internet delle aziende ma anche nel web in senso lato poi ci sono invece alcune agenzie di rating che integrano questo tipo di informazioni pubbliche con informazioni ottenute direttamente dalle aziende ad esempio Standard & Poor Sam una di queste invia un questionario all'azienda che richiede una compilazione molto 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 importante molto time consuming quindi un grado di dettaglio elevatissimo così come ISS valuta questo o integra queste informazioni via interviste diretta al management quindi il set informativo che viene utilizzato è diverso altro elemento di differenza quanti sono gli attributi cioè quali sono in un qualche modo gli indicatori di sostenibilità che vengono utilizzati qui vi riporto solo il dato numerico si va da un numero minimo di 35 cioè MSCI per definire quanto è sostenibile un emittente usa 35 attributi principali vediamo 35 il minimo qui arriviamo a 186 per Refinity ma ci sono altre società che qui non ho riportato ad esempio Fuzzi Russell che ne usa 300 quindi vediamo un numero di criteri assolutamente o di attributi assolutamente diverso tra diverse società ancora diciamo vi porto qua che poi questo è il punto essenziale diciamo l'elemento sul quale queste società si differenziano maggiormente è da un lato il concetto di materialità usato quello che vi dicevo prima cioè viene valutata la materialità finanziaria o viene valutata la doppia materialità tutti sviluppano una definizione proprietaria di materialità e molto spesso questa definizione non è resa pubblica quindi noi non sappiamo se non per diciamo statement molto generali che cosa stanno valutando il secondo tema importante è come ponderano cioè una volta che io ho individuato le metriche importanti che misurano la sostenibilità do a tutte lo stesso peso c'è qualche metrica che pesa più di altre ad esempio per una banca nella valutazione dell'esposizione diretta ai rischi il rischio ambientale pesa un po' meno rispetto al rischio di governance ovviamente non è così per una big oil quindi la ponderazione del singolo item ma anche di vari pilastri vengono combinati non per tutte è pubblica e non per tutti ovviamente è chiaramente definita quindi questo è un tema che porta a una forte opacità all'interno del settore cosa ecco qui vi riporto un esempio che cosa vuol dire tanta diversità nei pesi nella materialità ma questo come si scarica a terra come si direbbe allora qui vi riporto la valutazione di Brunello Cucinelli quindi un emittente che viene valutato da quattro società di rating da MSCI Refinitive Sustainalytics e Standard & Poor quelli che avevamo nella nostra tabella e abbiamo ovviamente uniformato quelle che sono le varie classi e che cosa vediamo mi concentro sui due estremi ad esempio vedo che Cucinelli è valutato una WB per MSCI che cos'è una WB per MSCI vuol dire che Cucinelli è posizionato come nella media del suo settore poi prendo l'altro rating pubblicato da Standard & Poor e vedo che utilizza il percentile quindi utilizza 0-100 con 100 best performance ovviamente Cucinelli è un 88 su 100 quindi si posiziona tra i top performer del suo settore quindi vedete ampia divergenza e poi uno si chiede ma allora Bornello Cucinelli è un caso isolato? No non è un caso isolato quindi riporto uno studio secondo me è molto interessante che è stato pubblicato quest'anno a maggio uno studio che è iniziato un po' di tempo fa è stato pubblicato in versioni provvisorie e questi sono i dati definitivi è uno studio di maggio di quest'anno che dal titolo evocativo Aggregate Confusion The Divergence of ESG Rating cioè è stato pubblicato da due autori dell'MIT e un autore dell'Università di Zurigo che cosa fanno questi autori allora prendono tutte le agenzie di rating che voi vedete nella parte alta della slide poi nella parte della tabella sono inserite le sigle e valutano quella che è la correlazione di Pearson quindi un semplice coefficiente di correlazione tra i giudizi emessi da coppie di agenzie di rating sui diversi emittenti quindi vi ricordo che il coefficiente di correlazione è una misura che va da più uno a meno uno tendenzialmente quindi se ho un coefficiente di correlazione pari a più uno vuol dire che quando un'agenzia valuta positivamente un emittente anche l'altra agenzia lo valuta positivamente se ho una correlazione negativa significa che quando un'agenzia valuta positivamente l'altra lo valuta negativamente se vado nei risultati di questa di questa tabella e guardo la colonna media quindi vado a sintetizzare un po' il tutto che cosa vedo? vedo che in media le correlazioni tra diciamo tra le valutazioni delle diverse agenzie mostra una media di 0,54 a livello di score complessivo con un'ampia variabilità passiamo da 0,38 a 0,71 ma poi vorrei farvi notare due cose la prima che se dallo score complessivo quindi dalla riga ISG mi sposto agli score sui singoli pilastri quindi la E la S la G la divergenza aumenta quindi cosa vuol dire che la correlazione si riduce e questo è il primo tema il secondo tema che se andasse a replicare questo esercizio con riferimento all'agenzia rischio insomma rating credito la correlazione qui vi riporto quella che è la correlazione tra i rating di Moody's standard and poor è dello 0,99 quindi praticamente sono perfetti sostituti e vado avanti nel senso che questi autori cosa dicono bene ma perché c'è divergenza c'è divergenza loro identificano tre principali cause quella che viene chiamata scope divergence cioè i famosi attributi che ciascuna agenzia decide di utilizzare per valutare la sostenibilità e questa scope divergence pesa per il 38% poi abbiamo la seconda fonte di divergenza che sono le metriche di cui parlava prima Costanza Torricelli cioè una volta che io identifico cosa misurare ho poi un tema di come misurarlo pensate ad esempio se volessi fare riferimento alla misurazione di un clima aziendale posso avere tante metriche posso misurare questo clima aziendale non sto valutando il turnover dei dipendenti posso misurarlo ad esempio prendendo in considerazione quante sono le istanze che i dipendenti muovono verso la società quindi mi danno esattamente mi consentono di misurare la stessa cosa ma sicuramente i risultati sono diversi quindi questa infatti questa la divergenza nella metrica è ciò che spiega la maggior quota di divergenza tra i vari giudizi diretti e poi c'è l'ultimo tema che sono i pesi di cui vi parlavo prima allora identifico gli attributi identifico come misurarli ma quanto pesano pesano tutti uguali sappiamo che ci sono delle divergenze delle differenze di metodologia e questa e la quota di divergenza spiegata è il 6% quindi vediamo che è un tema che non interessa solo il nostro Brughello Cuscinelli ma interessa diciamo la stragrande maggioranza delle società che vengono retate ma quali sono le implicazioni qua un po' il punto su cui vorrei fare qualche riflessione con voi allora la divergenza introduce incertezza e questo è ovvio ma diciamo l'incertezza dove si scarica la prima cosa e qui richiamo il primo intervento del professor Landi parlava delle decisioni di investimento dei gestori e quando nel momento in cui il gestore deve decidere che titolo inserire in portafoglio può fare affidamento sui rating ESG il tema qual è è che questa divergenza è molto ampia nella coda della distribuzione quindi che è il momento in cui il gestore va a selezionare i titoli best in class o decide di non inserire attraverso una strategia di esclusione quelli che performano peggio quindi c'è un tema importante per i gestori di fondi non solo se sono confusi le strategie di investimento del gestore ciò a valle si ripercuote sulle informazioni che i gestori di fondi danno ai propri investitori sulla qualità dell'ISG complessiva del loro portafoglio che solitamente è una media ponderata dei punteggi ESG che sono associati ai singoli emittenti tre riduce gli incentivi delle aziende a migliorare la propria performance ESG le aziende ricevono segnali contrastanti da queste agenzie di rating quindi in realtà non sanno come verranno valutate dal mercato e quali sono le azioni che verranno più valutate di altre quattro complica la possibilità di associare la politica di remunerazione alla performance ESG cioè ci può esistere un caso di cherry picking cioè vado a scegliere quello che è il rater che mi dà il giudizio migliore ma posso anche decidere di inserire metriche nella mia politica di remunerazione ma devo essere certo che il rater mi valuti quel tipo di informazione nel modo che io voglio e che lo renda pubblico quindi serve un dialogo importante tra l'agenzia di rating e la società comunque emittente che sta valutando quella politica di remunerazione ma è una sfida anche per noi che ci occupiamo di ricerca perché se usiamo diamo delle indicazioni di polli se diamo delle indicazioni particiore noi nelle nostre conclusioni se usiamo dati diversi provider diversi arriviamo a conclusioni differenti quindi chiudo con una frase che poi è la mia ultima la mia ultima slide che forse è un punto di domanda vi chiedo the ratings are not yet ready for the weight they have been asked to bear quindi i rating in realtà sono pronti a svolgere il ruolo che il mercato gli sta chiedendo che gli investitori gli stanno chiedendo qualche dubbio c'è abbiamo analizzato il tema della divergenza ma ne ho analizzato uno tra i tanti ci sono bias settoriali ci sono calibrazioni bias settoriali dimensionali bias geografici scarsa trasparenza delle informazioni esistenza di potenziali conflitti di interesse se l'agenzia di rating svolge più di un'attività non solo ma manca regolamentazione e supervisione su questo tipo di attività e guardate vi ho riportato un tweet di Elon Musk allora Elon Musk a maggio del 2022 di quest'anno cosa succede? succede che Standard & Poor durante la revisione dello Standard & Poor's 500 ISG cosa fa? fa uscire Tesla e mantiene dentro Exxon Mobile allora a un certo punto Elon Musk ovviamente è indispettito rispetto a questa tipologia di decisione twitta ma Exxon Mobile allora è un top diciamo è un top performer rispetto alle metriche ISG mentre Tesla non lo è conclude dicendo ISG is a scam quindi vuol dire che ISG è una truffa in un qualche modo è un pasticcio quindi lasciamo perdere cosa c'è scritto dopo ma questo è un po' il tema allora che cosa stanno questi sentiment un po' nell'industria stanno stanno uscendo ma perché? proprio perché esistono questi temi che stanno ponendo un po' in discussione come le varie agenzie di rating stanno lavorando quindi a mio giudizio richiamando anche gli interventi che mi hanno preceduto due sono i ruoli fondamentali quello del regolatore e quello dello standard setter di cui ho parlato l'ultima in precedenza perché perché sinceramente devono costringere le società a produrre dati ISG che sono di qualità standardizzati quindi confrontabili tra di loro proprio per evitare che sul mercato si possano verificare fenomeni o di greenwashing o vado verso un'allocazione non razionale del capitale un punto chiudo su un punto della regolamentazione cosa sta succedendo in Europa diverse ESMA e Commissione Europea si sono un po' diciamo passate questa palla nel senso che stanno prendendo la palla al balzo perché cosa hanno fatto? hanno inviato diverse lettere hanno aperto diverse consultazioni pubbliche in particolare c'è l'ultima consultazione pubblica che è quella di aprile di quest'anno della Commissione Europea che è chiuso il 6 di giugno di quest'anno in cui si valuta appunto il tema si è chiesto agli operatori di valutare tutto il mercato ISG nonché il tema dell'integrazione dei fattori ISG nel rischio credito la Commissione Europea ha raccolto i risultati sta elaborando i risultati e si prevede si presume anzi che entro il primo trimestre del 2023 uscirà un regolamento indirizzato finalmente alla regolamentazione di questo settore bene insomma grazie Valeria con questo messaggio insomma di speranza in termini di omogenizzazione perché abbiamo capito che questo aspetto della valutazione del rating è decisivo poi nel riuscire a segnalare a chi ha le risorse dove investire ma io direi che siamo siamo alla chiusura perché siamo andati ma neanche troppo lunghi nel senso che abbiamo poi deciso di approfondire e penso siamo riusciti anche di dare un quadro insomma completo completo nel senso che le tematiche affrontate fanno fanno capire che c'è qualcosa di importante che sta avvenendo c'è un tentativo che sta producendo dei risultati parziali di dare delle regole e quindi ci aspettiamo che queste regole poi possano tradursi anche in comportamenti sempre più allineati a quegli obiettivi noi abbiamo intenzione e qui parlo anche con gli amici della Ciambella di proseguire questo tema della finanza perché è molto importante come avete capito abbiamo lasciato fuori tutto un settore che è quello dei prestiti bancari che sono la variabile che può diventare ovviamente decisiva in quello spostamento di risorse ovviamente in dipartimento abbiamo competenza a partire dalla professoressa Gualandri e altri colleghi che hanno dato una disponibilità e quindi vogliamo ritornare su questo tema magari la prossima volta anche invitando degli operatori con cui dialogare e magari metterli anche un po' in difficoltà sui comportamenti che stanno assumendo bene vi ringrazio tutti e pochi rimasti resistenti ma siete insomma siete bravi e soprattutto insomma venite a qualche incontro di questo circolo perché è molto interessante ci sono discussioni a campo libero e quindi insomma ci sono delle idee che si che si possono trasmettere e si confrontano grazie 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 grazie